Una voragine, due metri di smottamento, le cui cause sono ancora da determinare. Una parte del cortile di un condominio che da sull'argine del retrone in via Fusinato è sprofondata ieri in tardo pomeriggio, abbassandosi secondo le stime dei vigili del fuoco in alcuni punti fino a due metri rispetto al piano di Calpestio. Il collasso avrebbe interessato una lunghezza di 20 metri e una larghezza di oltre due metri. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza insieme al funzionario di guardia hanno operato sul posto fino a tarda sera nel sopraluogo per capire le cause e i provvedimenti di sicurezza da intraprendere. Una volta accertato che non erano state coinvolte persone o automobili l'area è stata transennata.